Ciao a tutti in questo nuovo video by Gattomatotto Io in genere faccio video su Minecraft ma questo qua volevo farvelo vedere su Pottery che è un gioco per Android adesso è dal computer perché ho usato questo programma Bluestack che poi metto il download in descrizione che è molto bello ecco vi faccio vedere Pottery allora per alzare dovete creare questi vasi modellandoli e praticamente e poi dovete vendere le aste per guadagnare soldi e quindi comprarne anche altri altri colori quindi falli valere di più a last e quindi puoi vendere sempre i tuoi vasi per guadagnare dei nuovi colori quindi diventare più bravo ecco ecco adesso vi faccio vedere provo a fare un vaso poi vi faccio vedere il tutorial quindi poi dopo vi scrivo anche nella descrizione come scaricare Bluestack allora quindi va bene così la forma quindi verrà cotto il nostro vaso aspettate che sta cuocendo ecco ok poi vi do anche il link del mio sito dei download ufficiali dattomatotto.webli.com spero che presto avrò il dominio adesso vediamo adesso non ho colori quindi devo solo venderlo così vediamo l'asta non sarà poi tutta questa la forma è carina però ok le aste arrivano anche a 500 1000 euro in questo caso non ho messo niente perché sono all'inizio ok andiamo ad acquista vediamo ok ok è africano vabbè costa ancora troppo prendiamo il colore rosso lo acquistiamo torniamo al menu e piano piano aspettate faccio ancora un vaso così poi dopo vi metto il link e vi faccio questo praticamente vi faccio vedere un buon gioco da scaricare ok è bene così faccio anche un po' veloce per non darvi noia eccoci allora pennelli non abbiamo ancora ma abbiamo i colori ok proviamo a usare il nostro colore adesso qui un attimo aspettate un attimo che stoppo un attimo rieccoci guardate poi mi raccomando i miei video su minecraft e poi ho anche un software che ve lo fa scaricare gratis sul mio sito che vi metto in descrizione però dovete prima scaricare java basta che scrivete java e vi viene subito da scaricare per il vostro sistema ecco qua vediamo se riusciamo a venderlo un po' di più dell'altro si vabbè questo qua è almeno colorato ok buono ok vediamo quanto arriva 42 va bene un buon prezzo speriamo che questo programmino vi sia piaciuto adesso vi faccio vedere un attimo il link del download basta che vi scrivete bluestack così al plurale sarebbe e poi questo qua qui vedete il tasto download e poi basta e poi ve lo scarica non ci sono virus questo è un sito ufficiale spero che vi sia piaciuto andate anche sul mio sul mio sito me lo metto in descrizione ciao e al prossimo video by gatto matto otto ciao